Ciao, ci vediamo dopo! Scusate, con questa wazza mi è venuto proprio un bel raffreddore. Ehi, Chris Sand! Sì, che diavolo, già ci so! Pazzarezza! Anche quando c'è la wazza, sciolto in acqua calda, Chris Sand è una calda cura che combatte in fretta i sintomi del raffreddore e dell'influenza e decongestiona le vienasali. Con Chris Sand la giornata continua e l'unas si stappe. Le fia donne mi piace, ma puzza un po' di pecorino. Chris Sand, che diavolo, già ci si! Grazie a tutti!